Molte volte si parla di immettere artificialmente delle particelle chimiche tipo zolfo o da altre particelle nell'atmosfera. Quelli che chiamano schemi di geoingegneria per ridurre ed aiutare il pianeta e presumibilmente per evitare al pianeta di trovarsi dentro questo tremendo cambiamento climatico globale e mitigare il riscaldamento globale. Tuttavia l'incidenza di immettere sostanze chimiche nella nostra atmosfera sta andando a cambiare e modificare la produzione del raccolto dell'agricoltura. E se andate a mettere e portare nei nostri cieli delle sostanze chimiche per ridurre la quantità della luce del sole che raggiunge la terra, iniziate a ridurre la produzione dei raccolti. Studi all'Università dell'Illinois sulla produzione del mais mostrano una riduzione in mancanza del processo di fotosintesi dove le piante, grazie alla luce diretta del sole, ricevono l'energia per la crescita e per la produzione dei raccolti. Andremo a trovarci, se non mitighiamo questa direzione, ad avere forti effetti sulla produzione dei raccolti, non solo qui negli Stati Uniti, ma sul mondo intero. Una delle cose di impatto sulla produzione dei raccolti, proprio adesso, negli Stati Uniti, è della riduzione della fotosintesi. Ha un ulteriore impatto sulla capacità di produzione dei pannelli solari, che non genererebbero quella determinata potenza che dovrebbero avere a causa delle persistenti scie chimiche. La NASA parla delle continue scie chimiche dei jet, che esasperano il riscaldamento globale, perché intrappolano il calore nell'atmosfera. Nel momento in cui si producono cirri e nuvole prodotte dall'uomo. La NASA parla inoltre che quando noi, quando questi aerei rilasciano scie chimiche permanenti, cambiano il nostro clima.